Ancora buon pomeriggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze-Pisa-Livorno. La causa è risolta per un veicolo fermo. Ci sono stati due chilometri di coda, adesso in diminuzione tra Ginestra-Fiorentina e Lastra-Assigna, verso Firenze. Passiamo alla 1 tra Calenzano e il Vivio A1 variante di Valico. Questa volta in direzione Bologna c'è un veicolo leggero in avaria. E per la 1 ricordo ancora, lavori dalle 22 alle 6 durante la notte di mercoledì 20 settembre, dove sarà chiusa la stazione di Firenze in Pruneta in uscita per chi proviene da Roma. Per le regionali, la 302, Brisichellese e Ravennate, per un cedimento di un muro di sostegno, si viaggia a senso unico alternato dal chilometro 24 e 500 al 24 e 700. Siamo a Faltona nel comune di Borgo San Lorenzo fino al 30 settembre. Grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. A più tardi. Grazie a tutti.